La prima impressione è stata vecevolmente sconvolgente, è un paese in cui c'è molto da fare, in cui le condizioni sono abbastanza critiche, ma nello stesso tempo in cui si può fare molto, soprattutto coinvolgendo la gente del posto, la popolazione locale. Stiamo facendo promozioni dell'igiene tra adulti e bambini, invece con i bambini stiamo cercando di passare questi messaggi sulle buone pratiche igieniche attraverso delle attività un po' più divertenti, tipo giochi, canzoni, attività collettive e con i bambini sta funzionando molto bene, siamo molto contenti, sono molto reattivi, partecipi. Lavorare con i bambini è senz'altro la parte più bella, più coinvolgente e anche più soddisfacente, sono reattivi, insomma non c'è niente da dire, sono la parte migliore della giornata, veramente un bagno di energia.